Kate Middleton potrebbe tornare presto alla vita pubblica. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Secondo fonti vicine alla famiglia reale, la principessa di Galles potrebbe riprendere i suoi impegni già in autunno, forse durante le celebrazioni del Remembrance Day il 10 novembre. Dopo un periodo di cure e una pausa dalla scena pubblica, Kate ha trascorso un'estate tranquilla con il principe William e i loro tre figli. Ma ci sono segnali incoraggianti. La principessa ha ripreso a lavorare da casa e sta pianificando nuovi eventi, tra cui il concerto natalizio Together at Christmas, che potrebbe segnare il suo ritorno ufficiale. Intanto, William sembra più sereno e rilassato. Recentemente è stato visto in pubblico con una leggera barbetta e, secondo un sondaggio, ha sorpassato Kate nella classifica dei membri della famiglia reale più amati dai britannici, con il 75% di consensi. Mentre Kate si avvicina a un possibile ritorno, William si conferma nel cuore dei sudditi, in netta contrapposizione ad altri membri della famiglia, come Harry e Meghan, che registrano percentuali di popolarità molto più basse. E tu? Chi tra i reali ammiri di più? Commenta qui sotto e metti like!